Una foto che avrebbe dovuto tranquillizzare i fan e che invece rischia di sortire l'effetto contrario. L'ultimo scatto che Nadia Toffa ha pubblicato su Instagram, infatti, risale al 26 maggio scorso e i telespettatori delle Iene sono molto in apprensione per le sue condizioni di salute. Roberto Cenci, noto autore e regista televisivo, ieri ha però condiviso uno scatto in cui appare sorridente accanto a Nadia. La conduttrice inviata a Bresciana, che compirà 39 anni domenica prossima, continua la sua battaglia contro il tumore e, anche a causa degli effetti delle cure, aveva saltato la conduzione delle ultime puntate della stagione delle Iene. L'ultimo post su Instagram, in cui Nadia faceva le corna, era giunto in risposta alle false voci diffuse sul web che avevano annunciato la sua morte. La mia amica Nadia, si legge nella didascalia del post, accompagnata da tre cuoricini. Ad ogni modo, la foto diffusa da Cenci non è bastata per tranquillizzare i fan. In molti hanno notato l'abbigliamento invernale dei due e di Nadia in particolare, il che fa pensare che la foto sia stata scattata qualche mese fa. Anche per questo motivo, i fan sono ancora molto preoccupati. La mia amica Nadia. Un post condiviso da chiocciola Cenci Robin data, Giù 3, 2018 a Tuna e 34 PDT.